salve qui il vostro capitano saint jean salvate o travaglio per l'italia è un paese unico innanzitutto mi ha colpito la giornata del festeggiamento dei quattro papi due con vita e due no santificati in realtà si dovevano decidere o era la giornata dei due papi beatificati o la giornata dei due papi con vita come possono fare la giornata dei quattro papi mettendo insieme due vivi e due morti vabbè che magari molto tempo di vita non ti rimarrà spero di no o che gli altri non siano morti siano anche loro vivi però è un fatto strano perché non solo la città del vaticano c'è queste contraddizioni nominali che poi dopo le statue che piangono ci sono anche l'estate che si gettano io ho visto poraggio quello che è rimasto schiacciato che gesù sembra che lo abbia abbracciato no che era alto tre metri il crocifisso solo la la statua sembra proprio che gli si è casciato addosso ma anche italia un paese strano come il vaticano infatti in italia è sempre la giornata dei due presidenti e sì perché cerenzi come presidente del consiglio dei ministri ma c'è anche berlusconi anzi dei tre presidenti per non contare quello della repubblica perché c'è berlusconi e grillo che non hanno nessun incarico pubblico politico ma che come renzi fanno politica soprattutto berlusconi quindi niente il vaticano c'è due papi uno in carica e l'altro onorario italia invece c due almeno due premier uno in carica e l'altro nel proprio geriatrico però che continua a fare politica anche quando si farà servire da una bella infermierina la pappina sai la mela pestata col miele il limone no grattugiata che il calderanno le bave non tanto per la papa che gli dà l'infermiera sino per l'infermiera stessa che paese strano facciamo a gara di stranezze con il vaticano stesso io vivendo in italia non ci avrei mai pensato che saremo caduti così in basso veramente però io mi chiedo che c'è renzi che non ci aveva andriotti perché nessuno gli credeva mai quando lui diceva che era il nuovo che era incorruttibile che era giovane vabbè che poi gli anni passano tanto giovane non era gli credevano di più aldo moro ecco io non mi chiedo che cosa ci aveva aldo moro che renzi non ha ma mi chiedo che cosa c'è renzi che giulio andreotti non aveva perché nessuno gli avrebbe creduto a giulio andreotti se avrebbe detto le stesse cose che dice renzi adesso invece se avesse detto di meno aldo moro gli avrebbero creduto e non mi chiedo perché in quel caso ma mi chiedo che ci aveva di meno giulio andreotti che era meno credibile di renzi non lo so e berlusconi che già in più di renzi che continua a fare politica anche se dovrebbe essere renzi a farla e beppe grillo che che ha in più per fare di meno e che che ha in meno per fare di più perché mi aspettavo di più da beppe grillo dal movimento 5 stelle che non una mera contrattazione di potere nel palazzo dei bottoni e ci sono anche da chiedersi fini bossi tutti gli altri perché in america quando si è candidato george walker bush jr con e contro un altro ha perso l'altro e non si è più ripresentato al gore mi sembra e prima era un altro come non solo come sì perché quando al gore ha perso contro bush non si è ripresentato contro barack obama perché quando barack obama si è ricandidato non si è presentato quello che si perché si presentano solo una volta quando non sono eletti non si presentano più per le elezioni invece perché in italia ci abbiamo sempre i soliti noti che si ripresentano ripresentano mancano persone a parte berlusconi non c'è nessuno c'era solo renzi e bersani nel pd mancano politici in italia sono tutti portaborse dopo c'è solo un presidente di partito sono delle cose molto strane non abbiamo ricambio in italia e se ce l'abbiamo meglio darlo indietro comunque ecco il vaticano c'è due papi una carica l'altro no in italia ci abbiamo matteo renzi in carica come presidente poi berlusconi grillo che non hanno né funzioni partitocratiche le politiche ma continuano a fare politica misteri no giornali dei misteri dovrebbe parlare di questo oltre misteri del vaticano vabbè questo è stato un altro breve messaggio perché ultimamente non ho potuto registrare più nulla e mi dispiace perché volevo leggere i vangeli apocrifi allora aspettando che il nostro marco marco travaglio il nostro marco nazionale e dia lavoro nel fatto quotidiano vi saluto cordialmente il vostro santa e chan a presto mi raccomando non mancate di seguirmi io fra un'ora due dopo che ho finito di cenare pubblico questo video spero vi possa piacere che non venga troppo pesante per questo taglio adesso ciao